Certamente si va con questa legge attuale l'elezione di una Camera dei deputati nel Parlamento con una maggioranza di nominati sostanzialmente. Poi la misura dipenderà da qualche fattore che può mutare, però sicuramente tutte le previsioni che vengono fatte dicono che la metà e forse più dei deputati della prossima Camera con questa legge saranno nominati. Inoltre ci sarà una parte che sarà eletta con le preferenze, ma preferenze in collegi molto grandi e quindi anche con una competizione onerosa dal punto di vista economico-finanziario.